ciao ragazzi bentornati sul canale ho approfittato di una domenica libera per fare un po di metal detecting in spiaggia vi ricordo che siamo ormai a metà dicembre funghi ce ne sono davvero pochi in giro trovo alcuni leurotus e basta quindi metterò un video a riguardo e poi ci sentiamo verso i primi di febbraio marzo del prossimo anno per nuove ricerche col metal detector invece approfittiamo di questi periodi e delle grandi mareggiate che ci sono state infatti ieri ad esempio c'era mareggiata oggi il mare vedete già più calmo è tornato il sole e si può tornare a cercare per vedere se esce qualcosina vi ricordo che oggi c'è il sole la temperatura dell'aria è di due gradi c'è un leggero venticello molto freddo perché ha nevicato in montagna temperatura dell'acqua sugli 8 gradi mi raccomando se il video vi è piaciuto lasciate un like iscrivetevi al canale condividete i miei video e noi ci vediamo tra un po per il ritrovamento a Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 due euro in tutto ma sarà a dieci minuti che sono qua un po' Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.